Mercedes Wenger ha avuto in questo ultimo anno una trasformazione davvero incredibile Sono lontani i tempi in cui, naufraga bellissima dell'Isola dei Famosi, sembrava essere quasi una ragazzina timida Oggi è cresciuta. È una donna sicura. In pace con la sua bellezza e il suo corpo Mercedes Wenger esplosiva su Instagram.Ed è proprio su Instagram che la figlia di Eva Wenger continua ad ammaliare e stupire i suoi follower I suoi scatti sono diventati ormai un appuntamento fisso per i numerosi fan. Che sempre più estasiati continuano ad inondarla di messaggi e complimenti Anche Mercedes, come tutti gli italiani è alle prese con il duro periodo di quarantena E per questo ha deciso di rimanere in contatto con il suo pubblico attraverso una serie di video In particolare, la 25enne si mostra in tenuta da allenamento, alle prese con la giornaliera attività fisica ed il risultato è davvero scoppiettante Il rapporto inclinato tra Mercedes Zenger e la madre Eva.Durante gli ultimi mesi ha tenuto banco una situazione molto particolare La bellissima influencer, l'ospite di Barbara D'Urso ha lanciato una bomba sulla sua vita privata Dichiarando che in realtà il suo vero padre biologico non è stato il compianto Schicci L'uomo che Eva ha amato, scomparso qualche anno fa dopo una lunga malattia La rivelazione pubblica non è stata molto gradita dall'ex porno star La quale ha ingaggiato con la figlia una sorta di battibecco mediatico che le ha portate a scontrarsi più volte e che le ha viste lontane Ad oggi i rapporti sono ancora un po' turbolenti Complice anche alcune incomprensioni di Eva con il compagno di Mercedes L'ex tronista di Uomini e Donne Luca Speracchi Il cambiamento incredibile Angers Union durante questi mesi ha subito una trasformazione molto drastica Via capelli lunghi per optare ad un taglio corto con colore biondissimo Anche la forma fisica è differente Fisico tonico e scolpito Frutto non solo di una benevola madre natura ma anche di una intensa attività fisica che ama anche condividere con i suoi tantissimi follower